Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Apriamo con la FIPILI in direzione Livorno per lavori, un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina e un chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è chiusa l'uscita di Ginestra Fiorentina provenendo da Livorno e l'uscita di Tirrenia da Firenze. Il stantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo sul cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla SP12 e sulla 11. Trovate tutte le informazioni sui nostri canali social. Prima di salutarci segnaliamo sulla Siena Firenze e scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e in Pruneta in direzione Firenze. Muoversi Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!